Buongiorno amici, buongiorno. Ciao Sabrina. Siamo qui in compagnia di Pier Giacomo. E Sabrina, che è la nostra titolare della idrosanitaria, possiamo dirlo, che finalmente mette la faccia. Anche lei, visto che l'ho sempre messa io, adesso si parla di accessori. Di accessori. Parliamo di Colombo. Oggi parliamo di Colombo, che oggi è un'azienda leader nella produzione degli accessori. Proviene da una storia fatta anche di maniglie, le maniglie proprio quelle delle porte. È un'azienda che produce accessori di qualità. Produce accessori responsabilmente, con un ciclo produttivo, con delle logiche molto legate anche all'ecologia. Quindi dei processi galvanici molto attenti all'ottmaltimento poi dei rifiuti. e oggi anche a tutte quelle che sono le particolarità dei colori, dei colorati, PVD. E quindi adatti proprio a tutte le esigenze del mercato e del cliente finale. La cosa importante è che si avvale anche di designer super affermati. Adesso mi vengono in mente Angeletti e Ruzza, che sono due super del settore. Designer del settore idrotermosanitario e del nostro settore. Qui vedete una gamma, diciamo, completa di tutta la produzione Colombo. Parliamo di un prodotto che ha una garanzia di 10 anni. Sulla cromatura, quindi stiamo parlando di un prodotto, come vi dicevo, di altissima qualità. Stiamo parlando di un prodotto che può essere sia fissato al muro, con opportuni tasselli che vengono forniti già all'interno della confezione, oppure di alcune serie, parliamo di alcune, che possono essere, non tutte, possono essere anche incollate. Quindi ad incollo, perciò questa grande innovazione del non dover più bucare, ma anche quasi un po' avvicinata al fai-da-te. Ovviamente c'è tutta una serie di piantane anche, che sono a terra, o addirittura delle piantane a muro, che servono, tanto per dire, può esserci il portasapone, il portabicchiere e il portasalviette, sia per il lavabo che per il vide, oppure la piantana a muro, portarottolo. Nelle varie configurazioni, qui vedete la gamma completa degli accessori, ormai l'accessorio è veramente completo in tutto, oltre a quelli che sono gli accessori di base, quindi il portasapone, portabicchiere, ma anche, diciamo, quegli accessori un po' più particolari, quali possono essere gli appendini, anche piacevoli. Io lo chiamerei necessorio. Necessorio, sì, perché un bel bagno deve essere completato con un accessorio bello, perché un accessorio brutto all'interno di un bagno bello rischia di rovinare l'ambiente. Noi abbiamo in azienda improntata consegna alcune serie, tipo la Vesic, nella versione tonda o quadra, e la Nordic. Ovviamente tutte le altre serie sono su ordinazione, con tempi di consegna che vanno dai 15 ai 20 giorni. Ripetiamo che questi accessori sono accessori che, oltre ad avere un design piacevole, un design che comunque arricchisce il vostro ambiente bagno, quindi lo impreziosisce, sono anche accessori che hanno 10 anni di garanzia. Quindi vi garantiamo una durata nel tempo per non pensare di dover tassellare o comunque inserire un accessorio all'interno del bagno e poi doverlo sostituire dopo poco tempo. Hanno una durata molto, molto lunga. Nel caso in cui aveste delle difformità entro i 10 anni dal vostro acquisto, quindi vi consigliamo di conservare scontrino o fattura, documento d'acquisto. documenti il reale acquisto del vostro accessorio, la Colombo vi sostituirà il pezzo in totale garanzia. Garanzia, a titolo gratuito. Un'altra cosa interessante, volevo chiedere al nostro cameraman se inquadra, sono le griglie per le docce, che anche lì, come vedete, ce ne sono di diversi tipi. La griglia doccia è molto importante perché nelle docce, sempre più oggi nei nostri ambienti bagno, entrano nelle docce spaziose molto grandi e la griglia diventa un porta shampoo, porta bagnoschiuma, porta accessori, molto, molto, molto importante. Anche lì vedete che la particolarità sono le altezze, quindi altezze piuttosto, diciamo, importanti per far sì che anche i vari, diciamo, le varie bottiglie non cadano e quindi non vadano, diciamo, a perdere o comunque a deteriorarsi. Per cui, anche qui, abbiamo un'importante gamma che va dagli angolari a quelle più, diciamo, dritte, quindi più lineari. Con questo non vogliamo dirvi che i prezzi sono alti. Si può scegliere la giusta soluzione per ognuno. Il prezzo è rapportato alla qualità. Alla qualità, che è molto importante. Un'altra cosa, un altro complemento è il porta biaccheria che, guarda, ve lo vado a prendere così io lo potete apprezzare. Il porta biaccheria è un altro di quegli accessori molto, molto, fatto molto bene. In questo caso in ecopelle, ve lo apro all'interno, dove c'è un cesto che si può tranquillamente, può essere rimosso e lavato tranquillamente in lavatrice. Il prodotto, come potete osservare, è veramente di alta. qualità. Come anche le pattumiere. Le pattumiere, oggetta carta, sarà essere molto più... Che in bagno non può mancare, perché ovviamente ci sono diversi rifiuti da dover smaltire ed è molto comodo averli in bagno, soprattutto perché ha il pedalino, quindi oggi, anche per eventuali ospiti che possono entrare in casa, non c'è nessun tipo di contatto con le mani, ma è tutto a pedale, e quindi ovviamente possono essere anche utilizzate in luoghi invece pubblici, quindi se avete l'esigenza comunque di allestire un bagno di un ristorante, piuttosto che di un ufficio, si può fare. Mi allaccio a quanto ha detto la Sabrina adesso. Un altro argomento interessante che da Colombo va a produrre è tutta una serie legata all'hotelleria. Quindi tutto quello che è l'accessorio legato a un albergo, a una struttura recettiva, loro sono attenti e hanno tutta una serie di prodotti che fanno il caso dell'utente. E quindi anche gli specchi, per esempio, anche gli specchi che sono declinati in tantissime misure, oltre al fatto che possono essere personalizzati, qualora voi abbiate, come diceva Pier Giacomo, una struttura ricettiva, si può personalizzare anche lo specchio, non solo a livello di misura, ma anche a livello di eventualmente grafica o serigrafia, con il logo dell'hotel, dell'albergo, del B&B, tutto ciò che si può... Come anche tutta la linea delle lampade, dell'illuminazione. Ormai completamente a LED, per cui di ultima generazione, per cui tutte abbinabili agli specchi Colombo, ma non solo. Si possono utilizzare anche come illuminazione generale del bagno, in modo da avere, diciamo, un comfort completo. Direi che abbiamo completato il nostro... Quindi, venite a visitarci, abbiamo il corner completo, nessun problema, noi siamo pronti!